Isole ecologiche itineranti per recuperare rifiuti come frigoriferi, lavatrici, televisori, spesso abbandonati fuori ai cassonetti ed incrementare la percentuale di raccolta differenziata in città. Da sabato scorso è partita la raccolta straordinaria di apparecchiature elettriche ed elettroniche che fino a sabato 3 maggio raggiungerà diversi quartieri del territorio. Il progetto si intitola Lunga vita ai RAI di Napoli ed è promosso da Asia con l'assessorato all'ambiente ed il coinvolgimento di cittadini, scuole e associazioni che collaborano per contrastare gli scarichi abusivi. Nel 2013 sono 1.500 le tonnellate di materiali elettrici ed elettronici raccolte, un po' meno nel 2012, ma l'obiettivo dichiarato dell'iniziativa è far salire il dato. I punti di raccolta equamente distribuiti sul territorio saranno aperti dalle 9 alle 14. La prima giornata, partita da Piazza San Pasquale e Via Veniero a Fuorigrotta, ha registrato un grande successo in termini di partecipazione dei cittadini che hanno consegnato ai gazebo di Asia telefoni, televisori, stufe e forni a microonde. In poche ore ben due i camion pieni di materiali destinati al riciclo ed oltre 40 i quintali di prodotti sottratti all'abbandono indiscriminato. Il 5 aprile l'isola itinerante toccherà Largo Monte Calvario e Piazza Sanità. Il 12 sarà Piazza Nazionale e Piazza degli Artisti per poi spostarsi a Ponticelli in Piazza Prea e a Secondigliano in Viale delle Dolomiti il 19 aprile. L'ultimo sabato di raccolta sarà il 3 maggio a Chiaiano in Via dell'Eremo e a Soccavo in Via Epomeo. L'iniziativa integra il servizio di raccolta attivo tutti i giorni presso le isole ecologiche ed il ritiro sotto casa dei materiali ingombranti, chiamando gratuitamente il numero verde Asia 816 1010.